Si chiama Zaesha Azo, è una donna straniera che ha messo su TikTok un video per spiegare un problema, e cioè il fatto che spesso e volentieri i driver che portano il cibo a casa, ignorano quelle che sono le istruzioni di consegna chiedendo alla cliente di aprire la porta per ritirare il ritardo di ordine, senza quindi lasciarlo davanti alla porta come effettivamente guardando il disco. Va bene? Quindi la donna dice a tutti, nessun discluso, lasciate il cibo sulla porta, suonate e andate via. Sono una donna a casa da sola, per favore, seguite le dati di istruzioni di consegna. È un problema diffuso questo che la donna manifesta apertamente, disegnifica, infatti è un problema che riguarda un po' tutti, no? Perché purtroppo questa è la realtà, ok? Una donna pensate che avrebbe scritto, che avrebbero i driver uomini, mettete il cibo a terra, tanta volta. Suonate il campanello e andate via, con gli esercizi di una donna di casa da sola. Come lei e anche altre donne, ammetto di osservare con attenzione piena e totale, dal finestra aspettando di vedere il rider che si è bloccata. Non rimanete lì con la busta in mano ad aspettare che via ve la prenda direttamente. Bene? Sai che c'è una specifica situazione che può causare dei problemi, soprattutto di notte, perché la donna è una persona, è una persona che mi fa compagniare. Ok? Quindi grazie per l'ascolto e il video termine. Poi iscrivetevi al canale, la radio italiana con tutti. Una buona giornata a tutti.